ciao a tutti eccomi con il secondo spacchettamento dell'uovo di ronaldo un po di tempo fa ne avevo aperto già uno e adesso apriremo il secondo perché quando ho visto all'interno che il braccialetto che uscito mi piaceva molto ho deciso di prenderne un altro però ovviamente non l'ho aperto subito infatti qui c'è scritto all'interno braccialetti grove ball core cioccolato finissimo al latte sulla carta abbiamo delle bellissime immagini di ronaldo e anche sul cartoncino l'uovo e 240 g però ho notato che in altri diciamo allora dove l'ho preso io la cop c'era il cartoncino con scritto all'interno braccialetti groves mentre a panorama erano arrivati uguali identici ma qui all'interno una fantastica sorpresa e quindi evidentemente non in tutte le uova di ronaldo escono i bracciali ma soltanto dove c'è scritto allora apriamo e vediamo questa braccialetto che trovati dovrebbe uscire ecco qui l'uovo molto profumato si sente un buon profumo di cioccolato questo cioccolato al latte eccolo bene è diverso da quello che è già eccolo qua allora la sfondo e azzurro nero azzurro e poi abbiamo ronaldo che urla questo abbiamo il cartoncino braccialetti questo è il braccialetto che ho trovato l'altra volta secondo verde non di così sono entrambi molto belli ma c'è il cerchietto per regolare la misura possiamo leggere anche la scritta groves diciamo che quest'anno mi sono piaciuti molto le uova di ronaldo è stata una bella sorpresa almeno per me personalmente ecco ok io vi saluto un bacione alla prossima ciao ciao